... Vince e convince la Liar al termine della splendida gara ricca di gol. La parola ai protagonisti. Presentazione. Allora, sono Carmine Gara, il capitano Liar Corporation di Caimano. Niente, è il primo anno che facciamo questo torneo e sicuramente sarà un bel contesto. E penso che sicuramente diremo la nostra perché non siamo da meno. Siamo venuti qua per divertirci. Speriamo di arrivare fino alla fine. Il tuo ruolo, ricordiamo, difensore classico, vecchio centrale difensivo, vecchio stampo. Ragazzi, messaggio preciso per gli attaccanti ci sarà da soffrire. A tuo avviso, dove può arrivare questa squadra? Per me può arrivare molto in alto perché comunque abbiamo fatto anche altri tornei. Per noi ci manca qualche componente che comunque si riesce a sopperire. Spero di arrivare a... voglio essere umile, nel senso che spero di arrivare a più lontano possibile. Per toglierci pure le parecchie soddisfazioni perché comunque è una squadra che è nuova e nessuno ci conosce. Quindi speriamo di dire la nostra. Allora, nessuno vi conosce però il messaggio è bello chiaro. Alle altre contendenti del G1, 7-0, signori cari, è un avversario da temere. Presentazione anche per te naturalmente. Allora, buonasera a tutti. Sono Vincenzo Sassone, dipendente della Liari di Caivano. Allora, presentiamo la squadra. Quali sono i punti di forza? Allora, i punti di forza, mi avviso, è il gruppo che da anni ci distingue. Sia all'interno dello stabilimento che alla di fuori. Ecco perché abbiamo accettato il video di Somma Crescenzo per partecipare a questo torneo. Siamo onorati di venire in FCA a partecipare in questo torneo. Spero di dare il nostro contributo come amicizia sul punto della legalità, del rispetto degli avversari e tutto. Poi il risultato è quello che alla fine dirà il campo. Naturalmente anche per te, Provositi, ricordiamo, il giro è bello competitivo. Le squadre non si conoscono, però, alla luce di quanto visto nella prima edizione, tutte si sono rinforzate. La Liari può essere la matricola terribile perché non vi conoscono, però il primo risultato è il primo segnale bello chiaro. 7-0, pronti via. Gli obiettivi per la tua squadra? Gli obiettivi sicuramente è quello di vincere. Su questa la strada sarà sicuramente dura perché affronteremo altre squadre sicuramente più organizzate, però noi ce la metteremo tutta come stasera. Grazie ragazzi, al prossimo appuntino. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Capitano, al prossimo appuntino. Buonasera, arrivederci a tutti.